ciao ragazze allora volevo girare un attimo questo tutorial speriamo che non mi si scarichi la batteria allora cominciamo subito allora volevo fare il tutorial della di quella collana che ho messo nel giveaway e perché me l'ha chiesto elena allora io non faccio tutti i cinque tutti non metto tutti e cinque i fili allora quello non era la fettuccia era una specie di come si è di nastrino fatto tutto in seta non era fettuccia però si può fare con la fettuccia o con i nastrini o con con i cordoncini si può fare comunque come volete allora io faccio soltanto due fili perché sennò il tutorial viene troppo lungo solo per farvi capire come come si fa come si fa allora in questo caso usiamo uso questo merletto tutto con i pallini e facciamo soltanto due fili i componenti quindi sono la fettuccia o i cordoni o i nastrini poi servono a questi due servono questi due elementi per chiudere la collana e poi servono i charmes in questo caso io ho scelto questi charmes qua e poi gli anellini allora quindi tagliamo il primo il primo filo oppure la fettuccia quello che vogliamo fare in modo da formare il primo naturalmente non deve essere non deve essere troppo corta perché dobbiamo formare di nudi e mettiamo almeno tre nudi dovremmo fare almeno tre nudi quindi tagliamo qui poi uno si regola e quindi uno tagliamo con la forbice allora ora dobbiamo fare i nudi uno lo facciamo al centro quindi facciamo i nudi facciamo un primo nudo poi ne facciamo un altro qui sul lato dove andremo poi ad applicare i charmes e un altro qui allora io prima di fare questo ne ho fatto ho fatto già un'altra prova l'ho fatta azzurra dopo ve la faccio vedere inserendo però tre nastri nastrini naturalmente noi possiamo inserire tre quattro due e questo sarebbe la prima e quindi si mette così dove voi qui andremo inserire i charmes e questo viene messo qua ora dobbiamo fare la seconda naturalmente la seconda sarà più piccolina quindi arriverà qui perché questi devono essere sempre uguali quindi arriverà qui in questo caso qua io metterò solo un un nudo perché se facciamo altri due nudi viene troppo corta perciò uno si deve regolare con i con il filo quindi ne faremo soltanto uno facciamo così dove inseriremo il charmes ok ora i due fili ecco io non so se si vede penso di sì allora i due fili naturalmente dovranno essere sempre uniti in questo caso non abbiamo misse soltanto due la stessa cosa possiamo metterne i tre possiamo metterne i quattro possiamo metterne i cinque fatto con la fettuccia o con vi ho detto con questi tipi di materiali qua allora ora dobbiamo fissare la collana avendo fatto due tre quattro cinque la prima cosa da fare fissiamo la collana quindi prendiamo tutti i nastrini tutta la fettuccia come abbiamo fatto e cominciamo a mettere il con il componente quindi giriamo chiediamo questo componente e lo inseriamo qui e con la pina naturalmente servono le pinze con la pinza piatta cominciamo a chiudere quindi chiudiamo il primo lato e poi chiudiamo il secondo ecco qui e inseriamo e abbiamo inserito tutti e due tre quattro cinque nastrini la stessa cosa lo facciamo dall'altro lato quindi chiudiamo i nastrini in se lo inseriamo sul componente e chiudiamo a me mi sta pure scappando allora quindi e chiudiamo stati attenti infatti a me mi stava pure scappando bisogna girare a girare bene e quindi abbiamo inserito la collana cioè i cinque nastrini ora andiamo a mettere l'anellino perché così diciamo che facile è molto facile non è che complicata ci vuole un po di tempo se ne fai cinque poi puoi mettere dove vi faccio dire l'altra puoi mettere le perle si possono mettere diciamo tutti i componenti a piacere naturalmente mi sono dimentica del moschettone si mette il moschettone dopo ve lo faccio dire su quell'altra collana e poi un altro di qua sicuramente tanto farò un altro farò due video che poi riunisco perché sennò viene troppo lungo mi è volato anche l'anellino i tutorial devono fare di mattina però e poi mettiamo quest'altro anellino da qui su quest'altro lato ok si chiude ecco qua sono sette minuti di video penso ne faccio il continuo io poi lo unisco tengo il programma che unisco i video qua dobbiamo inserire il moschettone e quindi la collana diciamo che già ecco qui viene attaccata così con i nastrini ne metti 3 4 5 ora si attaccano tutti i charms dobbiamo attaccare tutti quindi vi faccio vedere come si attaccano i charms quindi allora ora apriamo un anellino lo apriamo chiuso col telefonino qua vicino che ho paura che mi vuole il telefonino sono difficile più facile spiegarlo che a farlo il tutore perché facile avete visto allora viate il io prendo il primo charms che mi capita e l'andiamo a inserire nel nodino che abbiamo fatto abbiamo fatto questo nodino lo inseriamo e chiudiamo l'anellino quindi come vedete è molto semplice io ora lo sto facendo in dieci minuti ecco qua e quindi inseriamo il charms ora io inserisco tutti i charms e vi faccio vedere ci vediamo dopo allora eccoci qua allora abbiamo inserito quindi ho inserito tutti i charms ora vi faccio vedere ecco qua qua ho messo la farfallina ho messo una croce qua ho messo un'altra croce e una tartaruga e poi viene attaccato e ho inserito assolta il muschettone ora vi faccio vedere anche quella che io ho fatto prima di fare il tutorial di questo qua è molto semplice quindi come avete come avete visto ci vuole solo un poco di pazienza allora eccola qua allora naturalmente questa qua io l'ho questa qua io l'ho fatta con i tre fili avendo più tempo avendo avuto più tempo eccola qua ed è azzurra ecco qua vengono inseriti tre fili chiusi con il moschettone così i nodini e nei nodini si inseriscono i charms e naturalmente si possono mettere le perle e qua per esempio si possono mettere anche le pandorine in questo caso e qua io ho messo una pandorina ho tagliato non ho fatto il nodo ma ho tagliato il nastrino e fatto ho fatto un nodo incastrando la pandorina e quindi viene fatta in questo modo con tutti i charms che ho messo vicino esatto qua stanno tre potete farne con quattro potete farne con cinque a sua volta invece la collana del giveaway era una specie di nastrino non so spiegare che materiale era però non mi piace molto perché dal vivo dal vivo si vede che questi specie di nastrini hanno fatto dei fili quindi si vedevano tutti questi fili sfilacciati e invece con il nastrino e con la fettuccia secondo me vengono più belli infatti guardate come sono belline poi soprattutto con questi colori questa è troppo carina con questo nastrino con queste palline poi sto adorando il nastrino infatti poi vi farò vedere anche dei braccialetti di braccialetti sempre fatti con in con i nastrini con queste cose qua questa pure è venuta molto carina si ma sono molto estive poi come collane queste qua con i nastrini con tutti questi charm e quindi spero che vi sia piaciuto il tutorial è molto semplice da fare però è più carino diciamo come con la nina e quindi spero che elena ci sia piaciuto come si fa e quindi è facile da riprodurre quindi ci vediamo al prossimo tutorial un bacio a tutti